Sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso da parte dei carabinieri con il coordinamento della procura di Napoli Nord le ricerche del vicino di casa di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, probabilmente strangolata dopo aver reagito a un tentativo di violenza sessuale. Due le circostanze che hanno generato forti sospetti verso il vicino della ragazza, un 31enne, il corpo di Rosa, è stato infatti trovato nell'abitazione dell'uomo e questo è scappato subito dopo il fatto. Di certo si sa che il 31enne era arrivato da poco nell'abitazione al primo piano del palazzotto di proprietà della famiglia di Rosa ed era quindi un affittuario del papà della vittima. La dinamica invece è ancora tutta da accertare anche perché non sarebbero emersi per ora testimoni diretti del fatto, né altre persone che abbiano raccontato di eventuali precedenti incontri tra i due. L'ipotesi è che la 23enne che viveva con i genitori al piano superiore sia stata attirata dal vicino nella sua abitazione al pian terreno e che questi potrebbe aver tentato un approccio sessuale respinto dalla ragazza. Circostanza quest'ultima che potrebbe poi aver provocato la reazione violenta del 31enne che ha ucciso la giovane strangolandola. Si tratta di ipotesi suffragate da elementi di prova emersi che però potranno essere confermati con certezza soltanto dopo l'autopsia che potrà rivelare se la ragazza ha subito violenza e si è difesa e dallo stesso presunto responsabile una volta che verrà individuato e fermato. Il corpo di Rosa, 23enne, descritta come molto dolce e disponibile, che aiutava il padre nella contabilità e il fidanzato nella tabaccheria di famiglia, è stato trovato dal padre che non vedendola ritornare ma vedendo l'auto della figlia parcheggiata nel cortile interno del palazzo era andato a bussare alla casa del vicino per vedere se l'avesse vista. Questo ha detto no e solo dopo due ore il papà della ragazza ha sfondato a spallate la porta di casa del vicino che intanto era scappato. Trovando così il corpo della 23enne in bagno, privo di vita, con uno strofinaccio in bocca e vestiti non a posto.